Lo spettacolo dei fuochi artificiali, applaudito da migliaia di persone, ha chiuso l'edizione targata 2024 della festa di San Vito a Omegna. Dieci giorni di eventi dedicati alla città e al suo patrono, che richiamano, come sempre una grande partecipazione da tutta la provincia e oltre. In questa giornata lunedì 2 settembre. Festa del Boden, in piazza Bianchetti a Ornavasso, tutte le sere cucina e cocktail bar, da giovedì a lunedì 9 settembre.